Un ben trovate telespettatori del circuito televisivo Giulia Italia, un nuovo appuntamento con 15 minuti con. Quest'oggi parliamo di referendum, l'appuntamento oramai è vicino e lo facciamo in compagnia di un autorevole ospite, il professor Carlo Amirante, già professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Napoli Federico II, e poi il professore fa parte di numerose società accademiche e scientifiche. Professore, grazie per aver accettato innanzitutto il nostro invito. Piacere mio. Tra l'altro non è nuovo per i telespettatori comunque di Giulia Italia, perché il contributo del professore è sempre prezioso, abbiamo avuto modo di ascoltarlo anche telefonicamente nei nostri approfondimenti, sempre in merito alla tematica del referendum. Professore, lei è un sostenitore, un fortissimo sostenitore del no, questo è tra l'altro uno dei suoi ultimi libri, tra riforma costituzionale e italicum, un rimedio peggiore del male, perché è per il no? Io sono per il no, per una serie di motivi, alcuni dei quali purtroppo non vengono fuori neanche nei dibattiti nazionali e neanche ad opera di presidenti della Corte Costituzionale, ex presidenti, ovviamente perché quelli in carica non prendono posizione, perché questa riforma è figlia illegittima. Prima di tutto è stata lanciata dal presidente della Repubblica napolitano, il quale per la Costituzione italiana non ha nessun potere per la revisione costituzionale e siccome prima di entrare in carica giura fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione, ovviamente non solo non ha nessun potere per la riforma, ma dovrebbe tacere in proposito. Al contrario invece ha lanciato tutta una serie di appelli e ha voluto dire anche di istituire una commissione che aveva continui rapporti con lui, quindi evidentemente non solo aveva nominato una commissione, ma voleva anche interagire nel senso della riforma e della Costituzione. Non a caso ha ricevuto un impeachment che però non è andato avanti solamente perché la situazione del Parlamento non lo consentiva. La stessa cosa è avvenuta per Renzi e prima anche per il governo Letta. Hanno avuto il coraggio, scambiandosi per l'Assemblea Costituente che ha creato la nostra bellissima Costituzione, di mettere per la prima volta nella compagine governativa un ministero per la riforma costituzionale, proprio come ai tempi della Costituzione. Cosa assurda dal momento che il governo non ha nessuna competenza in proposito perché secondo la Costituzione i protagonisti dei procedimenti di revisione costituzionale sono il Parlamento e il popolo. Ecco professore, lei diceva che ci sono alcuni aspetti che non sono stati approfonditi nemmeno nei dibattiti nazionali. E tra l'altro, le volevo dire, in veste di accademico, in veste di studioso, perché il Parlamento è studioso di lungo corso, le volevo dire, diciamo che Renzi ha caricato troppo di significato politico questo referendum. Questo referendum alla fine non è diventato il referendum per la riforma costituzionale, ma è il referendum o pro o contro il governo Renzi. Ho fatto quella premessa, perché proprio per l'assenza di competenza prevista dalla Costituzione in materia di revisione costituzionale del governo, se il governo invece inserisce nell'indirizzo politico cosa assurda? Perché l'indirizzo politico sono gli obiettivi del governo. La revisione costituzionale non può essere un obiettivo del governo, è un obiettivo del Parlamento. Quindi automaticamente si verifica quella personalizzazione di cui oggi tutti parlano, che è un fatto estremamente negativo perché interferisce col giudizio che invece, nel caso di una seconda votazione non si raggiungono i due terzi, passa al popolo, il quale deve giudicare sulla Costituzione, non sulla simpatia o antipatia per il governo. Se qualcuno invece inverte questa tendenza e violando la Costituzione si fa protagonista del procedimento di revisione costituzionale, è inevitabile che il referendum sulla Costituzione diventa un plebiscito proprio contro il Presidente del Consiglio, il che è una cosa assurda, incivile, che non diventa assolutamente nel gioco costituzionale previsto dalla nostra Costituzione. Adesso accadrà quello che accade, perché la maggior parte delle persone, data l'entità e la complessità e la profondità della revisione costituzionale, io ho visto che nei dibattiti televisivi e anche giovani studenti non sanno assolutamente nulla e molti sono incerti, non sanno se votare sì o no. Spesso si fanno convincere in due minuti dal primo arrivato. Professore, lei ha anche il tono della sintesi, questo è tipico delle persone intelligenti. Vogliamo provare un attimo a delineare se dovesse vincere il sì o se dovesse vincere il no, che cosa cambierà o che cosa non cambierà? Ma, ripeto, se il Presidente del Consiglio non si fosse arrolato insieme al suo governo, la sua riforma è Renzi-Boschi, che comprende purtroppo anche una pessima riforma elettorale dichiarata la precedente, il procedere incostituzionale dalla Corte Costituzionale. E qui interviene però anche una grave carenza dell'attuale Presidente della Repubblica in carica, perché il Presidente della Repubblica, Mattarella, è stato membro della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il Porcello. E siccome l'Italicum riproduce pari pari alcune incostituzionalità, come fa un Presidente della Repubblica, vista quella legge, che lui sa benissimo essere incostituzionale, a non rinviarla con un messaggio motivato alle Camere dicendo e eliminate gli elementi di incostituzionalità, altrimenti mettete in difficoltà me e la Corte Costituzionale. Perché la Corte Costituzionale ha stabilito che è fondamentale il principio della parità di voti e della libertà di voti. Ora in questa legge costituzionale non c'è né la parità di voti, né la libertà di voto. Per il primo punto perché se nel ballottaggio, perché presumibilmente nessuno arriverà al 40% al primo turno nelle prossime elezioni politiche, non si raggiunge il 40%, chi ha un partito dei tre gruppi, perché siamo in una situazione tripolare, raggiungerà il 20-25%, ottiene il 55% dei seggi in Parlamento, nella Camera dei Deputati, ammesso che viene eliminato il Senato. E la conseguenza è che il voto di chi ha votato per quella formazione vale tre volte quello degli altri voti. E questo è incostituzionale, perché il voto deve essere uguale. Ci può essere qualche piccolissimo aggiustamento nel senso maggioritario per favorire in caso di grossi contrasti e contrapposizioni fra i partiti la formazione comunque di un governo, evitare quello che è successo in Spagna e in Grecia. Però non a punto tale a stravolgere completamente la volontà degli elettori. Per quanto riguarda la libertà, noi abbiamo attualmente e avremo ancora dopo un Parlamento di nominati, perché il numero uno di ogni lista può presentarsi in dieci diversi collegi elettorali. La conseguenza è che poi ne può conquistare uno solo, per gli altri nove, per uno strano sistema di resti che viene calcolato a livello nazionale e non locale, il secondo in lista, a prescindere dai voti che avrà, diventerà parlamentare. Quindi si tratterà di un Parlamento di nominati. E in una situazione in cui invece la riforma avrebbe dovuto, sia questa sia quella costituzionale, riavvicinare i cittadini alla politica, perché si sa che il 50% circa, oramai purtroppo, mentre una volta in Italia si votava 80-85%, si ricorda, è molto giovane, però l'avrà letto. Certamente. È il paese in cui si votava di più. O gestendo si arriva al 50%. Quindi se uno rappresenta il 20%, in realtà ne rappresenta il 10% e quindi è scandaloso. Professore, dicevamo del Senato, il Senato che verrebbe ad essere, tra virgolette, un Senato delle Regioni, se così lo vogliamo definire, insomma, ma realmente ci sarà un taglio dei costi della politica? Taglio dei costi della politica? Che poi di fatto alla fine noi andremo a garantire l'immunità ai consiglieri regionali e quant'altro. Certo, su questo si sono fatti tanti discorsi, ma questo è l'aspetto minore. C'è la presunzione che data la grande massa di consiglieri regionali disciolti e commissariati e tanti consiglieri regionali sotto inchiesta, eccetera, eccetera, sarebbe meglio non concederla. Però su questo non mi voglio soffermare ulteriormente. Il problema è che la composizione del Senato e i compiti del Senato sono tali da contraddire completamente quello che viene detto da Renzi e dai sostenitori del Sì. Perché se ci sono 10 procedimenti legislativi diversi, la semplificazione di cui si parla non avviene. Ma poi ci sono 21, dicesi 21 settori, a cominciare dalla revisione costituzionale, in cui il Senato voterà obbligatoriamente sulle stesse proposte di regge o disegni di regge della Camera dei Deputati. Quindi hai voglia di navette. Ci saranno continue navette come ora. Quindi non si semplifica affatto il procedimento legislativo, anzi si complica, anche perché nel Senato, se le cose andranno come è previsto dalla revisione costituzionale, ci saranno 5 regioni fortissime, le regioni a statuto speciale, che conservano tutti i loro poteri legislativi e quindi naturalmente cercheranno di mantenerli anche a livello di Senato. E le altre 15 regioni che invece sono state indebolite sul piano di questa funzione, perché molte delle competenze sono state spostate a livello nazionale e poi con la clausola vampiro, cioè quella dell'interesse nazionale, e praticamente qualsiasi questione può essere ritenuta di interesse nazionale, quindi trasferita dalle regioni. Professore, se dovesse passare il sì, è vero che nelle mani del Premier verrebbe concentrato un maggiore potere? Nella riforma costituzionale non è previsto direttamente qualcosa che induce questo, però nella realtà, soprattutto nel combinato disposto con la legge elettorale, la cosa avviene, prima di tutto si indebolisce il Parlamento, ora se si indebolisce il Parlamento è chiaro che si rafforza automaticamente il governo, se il Senato, poi la composizione del Senato, prima non abbiamo avuto il tempo di parlare, è tale da favorire la presenza dei partiti, più che le designazioni dei cittadini, perché siccome i democratici, tra molte virgolette, perché lo sono sempre di meno, posseggono 15 regioni, la maggioranza delle regioni, adesso il numero non lo ricordo a mente, è chiaro che la presenza nel Senato sarà molto ampia, e quindi, poi siccome praticamente molte regioni hanno il diritto a due senatori, e se c'è un sistema tripolare, automaticamente uno, o in qualche caso pure due, se vince una maggioranza rigida, e andranno al Senato, e la minoranza sarà totalmente tagliata fuori dal Senato. Date le grandissime competenze, l'ordinamento giuridico generale, le riforme elettorali, il controllo sui trattati europei, l'attuazione, una delle competenze assurde, che qualche mio amico presidente della Costituzionale Meri sottolinea, è che i senatori dovrebbero, ogni volta, analizzare l'impatto dei trattati, dei regolamenti sul loro territorio, e questo presuppone che ognuno deve avere un grande gruppo di studio che analizza questa cosa. Professore, se dovesse passare però il no, rimarrebbe il canel, ma fino ad oggi, di fatto, che cosa ha realizzato il canel? Sì, ma questo dipende dal fatto di come l'hanno costruito, e che l'hanno considerato un cimitero degli elefanti. Ma in realtà, proprio con la globalizzazione, un organo che facesse un'analisi storico-economica-giuridica dell'andamento attuale e futuro, magari facendo un confronto per il passato dell'economia, del sistema monetario internazionale, della finanza internazionale, avrebbe un'enorme utilità nel dare un parere proveritate, anche perché dovrebbe essere pieno anche di rappresentanti dei sindacati, semmai io ci farei una riforma che lo rendesse un organo attivissimo e in grado di sostenere il peso delle multinazionali, delle compagnie di rating, contraponendo a questi giudizi che sono dei giudizi di carattere personale, perché loro sono le tre grandi compagnie di rating, sono finanziate dalle grandi multinazionali. Quindi da non si è un no, non proveritate, ma per avvantaggiare o danneggiare qualcuno. Professore, chiudiamo questa piacevole chiacchierata con un appello a non disertare il voto innanzitutto. Sì, io quindi dico se vince sì, lei mi faceva una risposta. Sì, mi ha risposto con degli esempi pratici. Sì, va bene. Quindi diceva? Diciamo l'importanza di andare comunque a votare domenica. Sì, l'importanza di andare a votare domenica perché non si tratta di consolidare un atteggiamento contro la politica, quindi antipolitico dei cittadini che dicono ma in fondo non cambia niente. Se cambia la Costituzione cambiano indirettamente i loro diritti e i loro doveri. Qui però io credo che tutti i partiti, in particolare i partiti da sinistra, hanno commesso un grave errore nel secondo popore. dovevano imporre con una legge la consegna, secondo me, in modo formale a ogni studente della quinta elementare o della prima media, da un rappresentante delle istituzioni, di un testo della Costituzione spiegando che la Costituzione non riguarda soltanto il governo, il Parlamento, la Corte Costituzionale, i magistrati, ma riguarda tutti i cittadini. Perché nella Costituzione, soprattutto nella prima parte, sono descritti i principi fondamentali che dovrebbero regolare l'intera società. Per esempio, il principio di eguaglianza significa che anche nella pubblica amministrazione, nei luoghi di lavoro, non è possibile incontrarsi con la Costituzione e trattare clientelialmente e in modo arbitrario e autoritario due persone che hanno la stessa posizione. Certo. Tanto è vero che una volta, per esempio, in famiglia c'era la patria potestà o potestà manitale, oggi c'è la potestà genitoriale. Però in osseguire la Costituzione i due membri di questa comunità familiare hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Va bene. Dunque l'importanza di andare a votare domenica. L'importanza di andare a votare perché la Costituzione è di tutti e invece purtroppo questa riforma è stata fatta dal lato del governo, non dal basso, ma per risolvere problemi di governo. Spesso succede, anche ai tempi della Costituzione di Weimar, cosa che poi ha favorito l'ascesa di Hitler, che chi non riesce a governare, magari anche per una situazione oggettivamente difficile, anziché riprendersi da con se stesso o con i cittadini che non danno nelle elezioni indicazioni tali da consentire un buon governo, che oggi purtroppo si parla di governabilità, cioè di governo a tutti i costi, che deve servire più alle esigenze del mercato mondiale che non a quelle dei cittadini e fra questi i più deboli fra loro. E quindi questa governabilità e stabilità hanno preso il posto del buon governo, che c'era una volta. Bene, la devo interrompere, professore, lei è un vulcano di competenza, allora io ringrazio il professor Carlo Amirante per essere stato con noi, ricordo già, professore ordinario di diritto costituzionale, Federico II, professore, di sicuro ci vedremo in altre occasioni, e in chiusura... e l'invito naturalmente a non disertare l'appuntamento con il referendum, non c'è nemmeno il quorum, vincerà chi ha praticamente un voto in più. Grazie ancora per averci seguito e continuate a seguire le produzioni di Targate. Vincerà la Costituzione. Vincerà la Costituzione. Grazie al professore. Grazie a tutti.